Parliamo anche di cani eroi, proprio come i nostri ospiti di oggi. Parliamo del gruppo cinofilo La Lupa di Piacenza che è venuta a trovarci con Gabriele, con questa Tami e con tutta questa squadra perché loro si occupano, amici, di soccorso, di soccorrere le persone in difficoltà. Lavorano con la protezione civile. Presentaci tutta la tua squadra, Gabriele. Ok, perfetto. Allora abbiamo Blu accompagnato da Eleonora, Peggy con Martina, Amelie con Daniela e infine Paddy accompagnato da Luca. E Tami è la tua compagna? È la mia compagna da sei anni. A cinque anni? Sei anni. Sei anni. Ma è una campionessa, questo possiamo dirlo subito perché guardate, tre anni fa questa cagnolona con questo muso bellissimo è arrivata terza nella categoria mondiale di grazie del bacio, lo sai che sto parlando di te, nella categoria mondiale di soccorso. E l'anno scorso è arrivata prima nel campionato mondiale di Ombidians. Questa cagnolona strepitosa ha preparato per noi una piccola esibizione, diciamo una dimostrazione che intanto andiamo subito a vedere. Tavolo 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 Conte Veramente una cagnolona speciale per svolgere insieme a tutti questi altri eroi a quattro zampe un compito importante, quello di soccorrere le persone. Ma mentre Gabriele vediamo le immagini di soccorsi che avete realizzato con i vostri meravigliosi cani, raccontaci ti prego quella che è stata la vicenda che più ti ha fatto convincere che davvero è importante quello che fate. Non avrei dubbi a raccontarti quando siamo stati chiamati per soccorrere una signora che si era persa sulle colline piacentine. Noi siamo arrivati nel primo pomeriggio, i vigili del fuoco subito ci hanno assegnato un'area dove lavorare con Tammi e noi abbiamo iniziato il lavoro di ricerca nel bosco. Subito dopo l'inizio delle ricerche abbiamo sentito che Tammi abbaiava, stava segnalando e subito l'emozione, ancora adesso mi prende a raccontarlo, di seguire questo abbaio finché non abbiamo ritrovato Tammi vicino alla signora che stavamo cercando. E quindi eravamo veramente tanti emozionati ma abbiamo dovuto finire quello che era il nostro soccorso e allertare il reparto sanitario e l'elisoccorso per portare la persona al più presto nell'ospedale più vicino. Beh Tammi sei stata davvero brava, io amici non finirò mai di ringraziare i tanti cani eroi che salvano le nostre vite, quindi protezione civile proprio come loro, i cani dell'unità cinofila, della polizia, dei carabinieri, della finanza, della croce rossa, degli alpini, sono tantissimi i quattro zampe che ogni giorno rischiano anche la loro vita per salvare la nostra. E adesso io saluto Gabriele, saluto tutti gli amici del gruppo cinofilo La Lupa di Piacenza e vi ringrazio davvero per quello che voi fate, ricordiamo che la loro è un'attività di volontariato e quindi loro mettono il loro tempo, il loro impegno e la loro dedizione al servizio degli altri.